Ben ritrovati e ben tornati a Revolution, pregate per me e in questi nostri incontri ci sono state tante parole, tante persone che sono ritrovate dentro una preghiera. Abbiamo avuto scrittori, abbiamo avuto giornalisti, abbiamo avuto registi, attori, maestri, persone che si sono inventate delle cose e si sono venute a raccontarcele. E questa sera anche atei, anche non credenti, che però dentro la preghiera trovavano qualcosa. Questa sera c'è scritto qui, chiamatemi Don Nunzio, ci chiede di chiamarlo Don Nunzio. Ma come si fa se Don Nunzio è Monsignor Nunzio Galantino, il segretario della CEI, conferenza episcopale italiana? Buonasera, grazie per essere dentro questa nostra Revolution. Revolution, un prete vescovo, ho letto questa cosa, che ogni tanto ha un po' di nostalgia per la sua vecchia vita di professore, è vero? Penso che capiti un po' tutti quanti, quando hanno fatto un'esperienza bella, costruttiva per sé e anche, io dico costruttiva anche per le relazioni che mi ha permesso di stabilire questo impegno universitario. E' chiaro che ogni tanto uno ha nostalgia. La nostalgia non è un sentimento negativo, assolutamente. È segno che qualche volta uno ha bisogno un po' di rivivere certe esperienze, riprovare certe emozioni. Tra pochissimo Monsignor Galantino chiederà una preghiera per sé. È una cosa strana che arrivi il segretario della CEI e dica pregate per me, che è una frase del Papa. No, no, vabbè, è una frase del Papa, ma penso che il Papa l'abbia detto come una persona qualsiasi, una persona normale che avverte il peso, la serietà, l'impegno di quello che è chiamato a fare e capisce anche che non può farcela da solo. Allora ha bisogno di questo supplemento d'anima e supplemento di sostegno. Tra pochissimo si racconterà, insieme ai nostri ragazzi, Don Nunzio, Monsignor Nunzio Galantino. E questa sera, dentro la nostra Revolution, pregate per me, c'è Monsignor Nunzio Galantino, anche lui a chiedere una preghiera e anche lui a raccontarsi, anche dentro una preghiera. Prima dicevo che abbiamo avuto anche persone ate, non credenti, che però qui ci sono venuti, su quella sedia ci sono stati e alla fine hanno chiesto una preghiera. Cioè la preghiera è di tutti? Sì, io penso che la preghiera è di tutti nella misura in cui tutti avvertiamo un limite nella nostra vita, avvertiamo un limite migliorabile. E allora se uno si sente limitato e sa che questo limite può essere superato, sa che questo limite gli permette comunque di andare a bandi, e sa che questo limite può comunque convivere con un impegno serio, chiede la preghiera perché questo limite non sia il solo a segnare la vita, ma ci sia anche qualche altra cosa di bello, di costruttivo, di entusiasmante. Posso chiederle una cosa? Ho letto del suo Dialogare con Dario Fo, un non credente, uno che alla domanda Dio esiste e risponde no, per me non c'è, non esiste. Perché dialogare con un ateo? Ma intanto perché così, prima ha citato un po' la mia vita, l'altra vita da professore, io insegnavo antropologia e per me il tema, o meglio la categoria della relazione è fondamentale, cioè entrare in relazione con le persone, tra le persone, per me significa comunque crescere e entrare in relazione, seriamente significa entrare in relazione anche e soprattutto con chi non la pensa come te. In questo caso mi sono trovato tra le mani un libro nuovissimo di Dario Fo, nel quale lui si racconta e racconta un po' il suo rapporto col Signore e dice io non credo. Io però nel dialogo con lui mi sono fermato su un suo però, ecco su questa apertura di credito un po' che lui fa, questa esperienza, per cui non la esclude dalla sua vita. È stato molto bello anche la risposta che lui mi ha dato, perché sapete è stato un dialogo piuttosto, diciamo, a distanza. Io ho dialogato soprattutto con quello che lui ha scritto. È stato bello vedere un po' come lui abbia apprezzato il tipo di approccio che ho avuto con lui. Dialogo è una delle parole, è una delle parole che adesso, lei, la sua rubrica l'ha intitolata Abitare le parole, come un suo vecchio libro, giusto? Sì, sì, sì. Abitare le parole. Allora, se le parole possono essere abitate o ci abitano, dialogo, che parola è? Dove siamo? In questo momento storico, in questo mondo che esplode, ci fa esplodere? Sì, sì, sì. Tu facevi riferimento ovviamente a questa rubrica che tengo ogni domenica sul Sole 24 Ore, sull'inserto domeniche. Sì, è stato scelto così da chi conduce quella rubrica il titolo Abitare le parole, che riproduce il titolo di un mio libretto di qualche anno fa. E con la parola dialogo, secondo me, è l'unica parola, a mio parere, che può far crescere la persona, può far crescere una famiglia, può far crescere anche la nostra società. Io penso che in questo momento quello che sta mancando è proprio la capacità di entrare in dialogo con l'altro. Dialogo significa soprattutto disponibilità ad ascoltare l'altro, dialogo ad accogliere l'altro, ma può dialogare, perché ci sono alcuni che hanno paura del dialogo. Le confesso che un quotidiano, un po' di tempo fa, no? Mi ha bollato, ma per il motivo, per questo motivo, perché io parlavo di dialogo, parlavo di confronto con tutti, dicendo che in questa maniera io distruggevo tutto. Invece penso che può dialogare seriamente chi ha una forte consapevolezza della sua identità, senza arroganza però, perché forte consapevolezza di sé non vuol dire mai essere arroganti. Il 3 maggio ci sarà un incontro. A proposito di dialoghi, il Papa ha dialogato con Scalfari e il 3 maggio ci sarà un incontro proprio anche suo con Scalfari. Sì, è previsto a Roma, in un teatro di Roma, al Teatro Eliseo, un incontro pubblico guidato da Lucia Annunziata, in un dialogo proprio nel quale Lucia Annunziata intervista Scalfari, intervista me. Io aspetto con curiosità, con attenzione questo, ma soprattutto perché voglio viverlo non come uno spettacolo, ma davvero come un confronto pubblico. E se a confrontarsi pubblicamente è bello, è bello soprattutto se non si ha da nascondersi, se non si ha da nascondere niente di sé, ma si ha invece di mettere in comune con gli altri quello che poi ciascuno di noi vive. Io lo vivo da vescovo, da prete, altri lo vivono in un altro, in un'altra. Però la cosa importante è avere questa libertà di raccontarsi. Ci sono tanti ragazzi che sono pronti a interagire con Monsignor Galantino, però c'era una cosa a proposito di questo, di questo scambio aperto, questo scambio appunto che non chiude, non si chiude, non crea limiti. Il fatto che tantissime persone ora si definiscono credenti, ma non praticanti, altri invece che si definivano atei, ora trovano delle aperte. Perché secondo lei queste due? Non so come definirle. Ma io penso che ci sia sempre stato un po' questo atteggiamento. Io non posso dire la verità. A me non sono molto simpatici questi atteggiamenti così che stanno a mezza strada. Sono credente, non praticante, perché uno che ha una fede, una qualsiasi fede, no? È un po' come un innamorato. Allora non esiste uno che è innamorato di una persona, però non sente l'esigenza di accarezzare l'altra persona, di abbracciare l'altra persona, cioè di esprimere anche concretamente questo amore. Allora queste fedi, queste fedi un po' self-service, no? Dove io me la canto, io me la fischio, non mi convincono troppo. Devo dire la verità. Simone ha già il microfono con sé. Buonasera Don Nunzio. Ciao. Volevo chiederle come mai oggi questo dialogo di cui lei ha parlato fra religioni diverse sembra essere così difficile, se non addirittura impossibile? Ma intanto, tu come ti chiami? Simone? Senti Simone, intanto non parliamo subito di dialogo difficile tra religioni, perché io potrei dirti, esistono sicuramente dialoghi molto belli, molto costruttivi tra religioni. Avrei sentito certamente parlare anche tu delle grandi esperienze di ecumenismo, ma non da oggi, da tantissimo tempo. D'altra parte il Papa, il Papa ultimamente ha incontrato Kirill, esperienza straordinaria di incontro tra cattolici e ortodossi. Io penso tu faccia riferimento un poco di più a tutta questa grande tensione che c'è tra il cristianesimo, soprattutto in questo momento, è una certa fascia dell'Islam e dell'Islam fondamentalista. E qui non parlerei di contrasti tra religioni, io parlerei di purtroppo dramma, drammatico scontro tra coloro i quali non vogliono il dialogo, non accettano la differenza, non accettano quello che Don Tonino Bello chiamava la sinfonia delle differenze, la bellezza delle differenze e intendono invece omologare tutto. Ecco, la difficoltà è questa, a livello di religioni, a livello anche di relazioni tra di noi. Se io sono una persona, se io sono una persona che non accetto la differenza, qualsiasi differenza mi venga dalla tua esperienza, io non sopporterò di stare con te e se mi è possibile io ti accopperò, come dicono a Napoli, no? Ecco, a livello macro questo avviene tra certe esperienze. Come non farsi schiacciare dalla paura? È una parola. Intanto teniamo presente che chi prova paura non è automaticamente un vigliacco. La paura fa parte un po' della nostra vita. Per certi versi è un po' la cifra della nostra umanità. E' terribile quando la paura diventa la chiave di lettura delle mie relazioni. Quando io incontrando te, mi rapporto a te con la paura di essere strumentalizzato, con la paura di essere ridotto, semmai in schiavitù, non necessariamente fisicamente, ma anche in questo tipo di relazione. La paura, secondo me, nasce nei momenti in cui noi veniamo sorpresi da qualcosa di imprevedibile, da qualcosa che lì per lì percepiamo come superiore alle nostre forze, alle nostre capacità. Però poi la ragionevolezza, l'esperienza, la vicinanza degli altri ci aiuta a superare la paura. Quindi la paura non è assolutamente un segno di debolezza assoluta. Fa parte della nostra vita. L'importante è non rimanere schiacciati dalla paura. Anche un monsignore può permettersi di avere paura? Ma io prima di essere monsignore, come stai dicendo, da dove sono una persona, e spero una persona normale, cioè una persona che fa esperienza tante volte di sorprese, sorprese belle, ma sorprese anche tante volte imprevedibili, sorprese di fronte alle quali non resta un po' smarrito. Quindi sono una persona normale, e quindi come le persone normali provo anch'io paura, difficoltà, disagio, rispetto a certe realtà mie e personali, ma anche di relazione con gli altri. Jessica? Credente non praticante. Però non alle fedi fai da te, alla fede fai da te, ma la cosa più importante comunque non è avere fede. Certo, avere fede è importante, però bisogna stare attenti perché la fede di per sé dice rapporto con una chiamata che mi viene dall'esterno, un appello che mi viene dall'esterno. Anche la fede in un'esperienza politica si dice, no, io ho fede in questo progetto politico. Cosa vuol dire? Che c'è qualcosa che dall'esterno mi incontra, mi interpella. Aver fede significa interagire con questa realtà, significa cominciare gradualmente, ma decisamente ad orientare la propria vita alla luce di ciò che mi viene dall'esterno. Quando invece la mia fede è una mia costruzione tutta interna, perché molte volte noi confondiamo la fede con, non so, certe operazioni di concentrazione su noi stessi, di volontà portata all'esasperazione di noi stessi, allora questa la chiamiamo fede, ma quella invece è soltanto un rimurginare cose nostre, un dare forma più o meno a cose nostre, ma che poi mi interpellano fino ad un certo punto. La fede di per sé, la fede cristiana, per esempio, cosa è? È un Dio che dice, guarda, io ti voglio bene, io per te sono disposto a rimetterci la pelle, anzi ci ho rimesso la pelle. Ecco, di fronte a questa cosa, avere fede cosa vuol dire? O non avere fede? Significa dire, senti a me di questa tua proposta, non mi interessa un cavolo. Oppure avere fede significa dire, ah, da questa realtà io mi sento interpellato, vuol dire che tu mi vuoi bene veramente, ma nello stesso momento vi chiami a fare come tu hai fatto. Quindi vedete come la fede non può dire, io sono credente, ma non praticante, va buon so. E quelli che dicono, io credo in Dio, ma non nella Chiesa? Ma anche lì, anche lì, intanto la Chiesa non esaurisce tutta o tutte le esperienze di fede, della Chiesa Cattolica, non esaurisce tutta o tutte le esperienze di fede. È chiaro che la Chiesa Cattolica ha la pretesa, tra virgolette, di avere, di avere questa, di vivere questa chiamata da parte del Signore e di storicamente realizzarla, storicamente rispondere in una certa maniera, attraverso delle fragilità, attraverso anche tanti, tanti limiti, ma attraverso un riferimento costante alla parola di Dio, attraverso un riferimento costante a quello che il Signore, attraverso anche la Chiesa, dice. Buonasera. Parlando di dialogo, io volevo chiederle, sempre parlando anche di fede, viviamo in un mondo dove è difficile avere sempre fede al 100% e in un paese dove effettivamente, non dico tutti, ma la maggior parte sono credenti non praticanti, oppure credono in Dio ma non nella Chiesa. Ecco, in quale modo dialoga con queste persone? Vuol dire che queste persone non hanno una fede al 100%? Come si fa a trovare la differenza o a capire se è vera fede o non è vera fede? Sì, intanto così, siccome tu dicevi che qui dove quasi tutti in Italia non hanno fede o ce l'hanno, allora ti do una brutta notizia, una bella notizia, non è che sia proprio così, tant'è che penso che in questo periodo di Pasqua qualcuno di voi, forse se pioveva, non sapeva dove andare, andate in Chiesa, ci ha visto che ci sta tanta gente, quindi grazie a Dio, ecco, non diamo l'idea di un'Italia, perché ho sentito dire anche sui giornali, ah ma non va più nessuno in Chiesa. Guardate, a Pasqua io ho celebrato una messa nella cattedrale di Cerignola, dove stavo, la Chiesa era pienissima, ma non perché ci fossi io, perché, ma come tantissime altre Chiese, quindi ecco, stiamo attenti anche a non amplificare tanti luoghi comuni. Però ecco, dialogare con chi non ha fede è importante, è importante perché si mettono a confronto, entrano in dialogo due esperienze diverse, no? L'esperienza di chi questa chiamata, e quella di cui parlavo prima, l'ha accolta e si sforza di farla interagire nella propria vita, è coloro i quali pensano di poterne fare a meno. Guarda che hanno tutti e due, se sono disponibili, hanno tutti e due da imparare, tutti e due da imparare. Davide, velocemente l'ultima domanda. La fede self-service appare molto nella Chiesa Cattolica, questo forse non è anche un problema di linguaggio da parte delle gerarchie, forse non si riesce più ad attualizzare il linguaggio? Sì, io non so dove c'è chi ti abbia detto, da dove abbia preso, che soprattutto nella Chiesa Cattolica, perché essendo io uno che gira molto, vedo che questa tentazione della fede self-service è purtroppo una tentazione che tocca tutti, non soltanto i cattolici. Allora, messo a parte questo fatto qua, la domanda fondamentale che mi facevi tu qual era? Non c'è forse un problema di linguaggio da parte della Chiesa Cattolica? È vero, è vero, che c'è un problema di linguaggio, c'è anche un problema di linguaggio nella Chiesa Cattolica, ma un po' tutte quante le esperienze religiose, soprattutto quando non riescono a rendersi conto che l'esperienza religiosa non è un'esperienza campata in aria, è un'esperienza che se non tocca l'uomo, il cuore dell'uomo, la vita dell'uomo e delle donne di questo tempo, diventa una religione campata in aria, una religione che non incide nella storia, e il linguaggio deve essere quello, quello di chi quando parla, parla di cose che si capiscono, si comprendono, hanno un senso. Monsignor Galantino, ci ha detto che un po' di nostalgia ogni tanto per la sua vita da professore ce l'ha e allora sa che faccio, regalo la nostra lavagna e anche il gesto, così ci scrive il suo pregate per me. Certo. Andiamo alla lavagna con Monsignor Nunzio Galantino, questo è il gesto. Devo riscriverlo. Pregate per me? Per? Perché dobbiamo pregare per lei? Ma innanzitutto perché sono una persona normale e come tutte le persone normali, riconosco le mie fragilità, ma c'è un motivo in più, perché il compito che mi ha affidato il Santo Padre nella Chiesa italiana, cioè di coordinare un po' questo servizio dei Vescovi e delle Diocesi italiane, non è che non richieda impegno, non è che non richieda energie, non è che non richieda qualche volta anche un bel po' di faccia tosta e di coraggio. Allora chiedo di pregare per me perché possa rispondere in maniera decorosa al mio compito e perché non convidi troppi guai. Questa è la preghiera di Monsignor Galantino, la scrive, la sintetizza. Sì, allora, perché... Mi pare che si scriva così, no? Adesso sì, a proposito di linguaggio. Non combini troppi guai. Questo è quello negativo, no? Ma poi, soprattutto perché sia... vediamo, un po' più fedele al Padre Eterno. Ecco. E questa è la preghiera di Monsignor Nunzio Galantino. Grazie davvero per essere stato con noi. questa sera alle 21, ultima puntata di Revolution. Non ve la perdete, vi aspettiamo. Grazie ragazzi. Grazie davvero. Grazie. 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 Grazie.